Nutrire il pianeta, innovazione e sostenibilità grazie all'agricoltura biologica è il tema della 17esima edizione di BioEuropa 2014. Il convegno, organizzato dal Consorzio Marche Biologiche, si svolgerà sabato 28 giugno all'antico monastero di Montebello di Isola del Piano. Presenzeranno personaggi della cultura e dell'economia, amministratori e politici locali, nonché il vice ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Andrea Oliviero. BioEuropa rappresenta un appuntamento molto importante per tutti gli operatori che sono impegnati nel comparto dell'agricoltura biologica. Quindi ogni anno si incontrano presso il monastero di Montebello, che rappresenta una sorta di culla dove è nata l'agricoltura biologica a livello nazionale. L'argomento di quest'anno riprenderà il tema dell'Expo 2015, nutrire il pianeta, e noi lo decliniamo con la sensibilità, con le caratteristiche che noi produttori biologici abbiamo, ovvero mettendo in evidenza più gli aspetti, potremmo dire, legati alla sostenibilità e alla innovazione, che sono due caratteristiche tipiche dell'agricoltura biologica. Anche quest'anno tanti personaggi di spicco? Ma sì, diciamo che noi abbiamo sempre questa caratteristica, ovvero di affrontare gli argomenti cercando di approfondirli. Per cui tutte le relazioni, tutti gli argomenti ruoteranno intorno a tre temi centrali. Il primo tema è sicuramente quello della politica agricola comunitaria, che svolge un ruolo molto importante per la promozione dell'agricoltura di qualità, in particolare dell'agricoltura biologica, e questo avviene in un contesto particolare, sia perché la PAC, la politica agricola comunitaria, è stata di recente rinnovata, ma soprattutto perché le regioni, e quindi anche la regione Marche, sta elaborando il nuovo piano di sviluppo rurale. Quindi sarà l'occasione per rimettere a fuoco le priorità della politica agricola comunitaria, cercando di declinarla anche a livello regionale, vedendo come il piano di sviluppo rurale avrà l'intenzione di promuovere l'agricoltura biologica. L'altro aspetto, lo stesso importante, riguarda l'opportunità di creare distretti agroalimentari di qualità nel territorio della nostra regione. Noi crediamo che la provincia di Pesaro abbia le caratteristiche per ospitare un distretto agroalimentare di qualità e quindi potremmo dire creare una sinergia tra l'agricoltura biologica e distretto agroalimentare di qualità. Il terzo aspetto, e ultimo, ma non per importanza, è la comunicazione. Noi come comparto dell'agricoltura biologica cresciamo all'estero, vorremmo però crescere anche nel mercato nazionale, mercato locale e riteniamo che la comunicazione verso i consumatori sia una priorità, per cui sarà dato spazio anche dell'importanza della comunicazione per incentivare l'uso di prodotti biologici anche nel mercato locale.